Buongiorno a tutti i nostri gentili telespettatori, stamattina vi proponiamo dal comunale di San Michele Di Cazzaria la partita di playoff, primo turno del campionato sperimentale regionale Under 14. A confrontarsi in questa bellissima giornata di sole primaverile sono la squadra di casa all'Academy Caltagirone che ospita la SD Magica Mister Bianco, partita valevole come abbiamo detto per il primo turno dei playoff, turno che si è venuto a creare grazie alle posizioni in classifica nel campionato in quanto l'Academy Caltagirone è classificatasi terza incontra la Magica Mister Bianco che a sua volta si è classificata al quarto posto del girone quindi oggi partita da dentro o fuori per quanto riguarda i locali di Mister Alfredo Nicolosi due risultati sul tre e la componente fattore campo qui al comunale di San Michele mentre per gli ospiti la Magica Mister Bianco l'unico obiettivo, l'unica possibilità di passare il turno è la vittoria. Detto questo andiamo alle formazioni partendo prima dagli ospiti la SD Magica Mister Bianco vediamo se riusciamo con i numeri a dirli perfettamente in ogni caso col numero 1 Leone Michael col numero 6 Zappia Vittorio col numero 13 Zaffora col numero 4 Vaccaro Capitano col numero 9 San Filippo col numero 11 Palazzolo col numero 2 Pacifico col numero 3 Ghiaria col numero 10 Gaudiosi col numero 5 Finocchiaro col numero 7 Catalano col numero 8 Castorina il mister della formazione di Mister Bianco e il mister Cavallaro per quanto riguarda invece la squadra di casa la SN Academy Caltagirone mentre l'arbitro dà il via alla partita si schiera con Di Pasquale Umberto col numero 1 col numero 2 Gravina Lorenzo col numero 3 Cucè Federico col numero 4 Attaquile Alberto col numero 5 Jurato Davide il 6 è Parrinello Francesco il numero 7 Capitan con Giaratana Simone e il numero 8 Politino Walter col numero 9 il centravanti Marcinò Salvatore col numero 10 Persico Luciano col numero 11 Vespo Nunzio In panchina troviamo i seguenti calciatori si tratta di Bizzini Leonardo, Avola Giuseppe, Furci Lorenzo, Rabito Salvatore, Sortino Chiliam e Meli Dilan come detto l'allenatore Mister Affredo Nicolosi la partita è iniziata da un minuto e mezzo circa il Magica Mister Bianco in avanti potrebbe mettere una palla in mezzo riesce a liberare la difesa dell'Accademia Caltagirone Persico che si destreggia sull'esterno riesce a superare due avversari mette palla in avanti per Attaquile Attaquile porta palla verso l'area avversaria mette una palla in mezzo ma viene anticipato dalla difesa della Magica Mister Bianco libera la propria aria palla a centrocampo il centravanti della Magica Mister Bianco riesce a coprire palla e scaricarla esternamente sul giocatore di competenza di fascia palla ancora per il Mister Bianco girano a centrocampo i ragazzi con la maglia verde e nera Marcinò ruba palla al difensore prova ad ingonearsi in aria ma fa buona guardia l'esterno destro della Magica Mister Bianco e palla che finisce in fallo laterale fallo laterale battuto dai ragazzi in maglia verde palla in avanti il numero nove della Magica Mister Bianco controlla fa girare palla ancora sull'esterno sinistro cerca l'avanti di Mister Bianco fa buona guardia Jurato che passa la palla dietro a Di Pasquale che su rinvio corto recuperano la palla i ragazzi di Mister Bianco ancora i verdi neri forse c'è un fallo e l'arbitro si avvede della scorrettezza da parte del difensore dell'Academy e punizione a favore della Magica Mister Bianco se non andiamo errati il numero 4 si occupa di questa battuta del calcio di punizione si tratta di Vaccaro Andrea tra l'altro capitano della formazione di Mister Bianco palla i 21-22 metri calcio col Mancino gira la palla palla che fa sua buona guardia il portiere Umberto Di Pasquale che pronto rilancia in avanti per gli avanti in questo caso Vespo viene anticipato da difensore ancora palla a centrocampo l'arbitro non si avvede di un fallo a centrocampo e fa continuare l'azione ancora Vespo che si destreggia sull'out destro ma si trascina la palla in fallo laterale fallo laterale battuto dai nero-verdi di Mister Bianco ancora in avanti per l'ottimo movimento del numero nove si tratta di San Filippo che però fa buona guardia alla difesa dell'Academy ancora palla in avanti diciamo così messa in fallo laterale da Umberto Di Pasquale palla in aria l'Academy libera la difesa Vespo potrebbe partire in velocità è una delle sue qualità maggiori ancora Vespo si destreggia sull'out destro prova a saltare un paio di avversari non ci riesce per la doppia marcatura e chiusura degli uomini nero-verdi di Mister Bianco fallo laterale palla in avanti libera il giocatore dell'Academy ma riesce a recuperare la palla ancora per un momento il Mister Bianco ancora recupero palla Politino prova a lanciare Marcinò che viene incontro della palla la stoppa punta l'avversario benissimo per Luciano Persico che si deve impegnare a tenere la palla in campo prova a superare il diretto avversario ci riesce palla che viene spazzata via dai difensori della magica Mister Bianco in fallo laterale fallo laterale battuto da Federico Cuccia cerca la sponda Marcinò si deve girare prova a mettere la palla Vespo prova a controllare questo pallone scarica dietro ma un po' lungo recupera la palla i ragazzi di Mister Bianco aprono il gioco sull'out sinistro prova un 1-2 ma viene anticipato da attaquire se non vediamo male Marcinò Marcinò prova a superare il suo diretto avversario chiude bene l'esterno sinistro del magica Mister Bianco e apre il gioco per l'esterno offensivo giro palla in mezzo al campo prova il lancio in verticale per gli avanti nero-verdi fa buona guardia Jurato pulisce l'aria ancora Politino Politino verso Marcinò ha il problema di stoppare la palla per il rimbalzo della stessa recupera palla Parrinello che ancora Parrinello di testa prova a scavalcare il centrocampo fa buona guardia la centrocampisti del magica Mister Bianco ancora palla in avanti Marcinò cerca una sponda per Persico si incunia Persico all'interno ancora Marcinò spazza in avanti la squadra di Mister Bianco Cucè prova ad aprire il gioco per Attaquile ma la palla si spegne in fallo laterale Ricordiamo che l'arbitro dell'incontro è il signor di Dio della sezione di Enna ancora gli uomini di Mister Bianco i ragazzi di Mister Bianco in avanti palla al numero 9 si tratta sempre di San Filippo palla in avanti attenzione Jurato potrebbe mettere la palla di testa proprio difensore lo fa bene ancora Capitan Giarratana va a recupero della palla si porta la palla in avanti ma viene chiuso dall'ottimo intervento dell'esterno sinistro della della magica Mister Bianco ancora Giarratana che lotta Gravina mette la palla in fallo laterale a favore dei nero verdi di Mister Bianco fallo laterale battuto recupero in uscita di Capitan Giarratana palla Maccino attenzione un 3 contro 3 3 contro 3 Vespo si potrebbe sfruttare la sua velocità il proprio tira di sinistro tiro debole che si spegne sul fondo campo quindi prima occasione diciamo prima occasione tra virgolette primo tiro in porta da parte dell'Accademy Caltagirone ad opera del numero 11 Calatino si tratta di Nunzio Vespo che è stato bravo in velocità nel rientrare approvato in sinistro palla che si è spenda a fondo campo si gioca ancora sulla metà campo palla in fallo laterale Gravina Lorenzo Gravina in classe 2011 ancora Macinò sponde in avanti dove non c'è nessuno fa buona guardia il portiere del mister bianco si tratta di Leone che prova il rinvio palla recuperata da Attacuile ancora Attacuile gira palla per Politino Politino ancora per Attacuile cerca Macinò che diciamo così è sfortunato nel controllo della palla lancia ancora in verticale per la magica mister bianco fa buona guardia capitano giarratana che cerca e trova Marcinò Marcinò si gira potrebbe aprire sull'out di destro a Vespo lo fa ha il problema di girarsi e viene chiuso dalla difesa del mister bianco risultato ancora fermo sullo 0 a 0 in questa giornata in questa domenica prettamente primaverile al comunale di San Michele di Canzaria ancora Vespo prova diciamo così un traversone dall'out destro lui che è un mancino e palla che si spegne ancora una volta in rimessa dal fondo parte da dietro il mister bianco gioco centrale esterno prova ad aprire per l'esterno offensivo e palla che si tracina in fallo laterale a favore dei gialloneri di Caltagirone oggi con la maglia rosso e i pantalongini neri ricordiamo ai gentili telespettatori che l'accademia di Caltagirone attacca da destra verso sinistra mentre la magica mister bianco attacca da sinistra verso destra maglia verde e pantalongine calzettoni neri per i ragazzi di mister bianco palla in avanti fa buona guardia politino politino per marcinò e bravo il difensore della magica mister bianco che appoggia di testa al proprio portiere fa buona guardia e leone e prova a far salire i suoi con un rinvio molto lento recupera palla il numero 4 attaquile capitano giarratana cerca l'1-2 con macchinò un po' lunco ancora il centrocampista apre il gioco sul numero 7 catalano che a sua volta apre il gioco per gli amanti ma la palla viene messa in fallo laterale guadagna un fallo laterale Federico Cucè battuto e fallo laterale ancora numero 7 che riesce ad intervenire Marcinò esce per un scarico corto ancora palla in avanti della magica mister bianco palla in avanti fa buona guardia Umberto di Pasquale il classe 2010 e apre il gioco per Gravina Gravina che cerca Vespo in velocità a sua volta Marcinò si inserisce prova un 1-2 con Vespo che ricordiamo è un mancino si deve girare e guadagna un fallo laterale fallo laterale battuto da Gravina Lorenzo palla per Marcinò scarica dietro a Taquile prova un tiro dalla media lunga distanza la palla si spegne in rimessa dal fondo ma l'arbitro ha decretato una deviazione da parte del portiere Leone e quindi calcio d'angolo a favore dell'Accademia Altaginò alla battuta Persico Luciano Persico la mette su primo palo fa buona guardia difensore del mister bianco attaquile poi prova il tapin di testa ma la palla non ha preso velocità e quindi si è diciamo così facilmente arrivata tra le braccia del portiere della magica mister bianco ancora Marcinò Vespo gira palla prova Politino attenzione potrebbe calciare ma viene anticipato dall'ultimo difensore Persico entra in aria e si destreggia salta l'avversario con un interno sinistro e palla che si spegne fuori a un paio di centimetri dal palo difeso dal portiere della magica mister bianco quindi questa forse probabilmente la prima vera occasione da gol per l'Accademia Altagirone ad opera di Luciano Persico che per poco non riusciva a portare la sua squadra in vantaggio uscita di Federico Cucè palla in avanti ancora Catalano Catalano lancia il numero nove del mister bianco si trattava di San Filippo viene anticipato Politino si destreggia Altagirone ancora Politino Politino si fa anticipare dal centrocampista della magica mister bianco ancora capitano giarratana maccinò scarico palla dietro palla avanti palla dietro lanciata da Politino Attaquile sponta di maccinò per Vespo col mancino tira in porta tiro che si spegne centralmente e fa buona guardia il portiere della magica mister bianco il numero uno leone Michael Michael leone che lancia lungo ancora maccinò in recupero palla sta giocando molto spalle alla porta salvo maccinò sempre libero di poter appoggiare dietro ai centrocampisti ancora maccinò stesso lavoro scarico manda in velocità attenzione Persico pallonetto di Persico che si mette che entra in rete Luciano Persico porta in vantaggio l'Accademy Caltagirone il nostro vice capitano vice capitano Persico il numero dieci dell'Accademy Caltagirone porta in vantaggio i suoi con un bellissimo gol diciamo così molto di astuzia e furbizia da parte del numero dieci locale che trafigge così il portiere leone quindi Accademy Caltagirone uno Magica Mister Bianco zero la rete ricordiamo è ad opera del numero dieci del nostro trequartista attaccante Luciano Persico quindi Accademy in vantaggio prova a dare una risposta alla Magica Mister Bianco a centrocampo lotta il numero sette è Catalano Catalano ha il problema di girarsi viene chiuso da Taguile che mette la palla in fallo laterale il numero tre si presta a battere questo fallo laterale si tratta di Ghiarga e punizione a favore della Magica Mister Bianco se come quella di qualche minuto fa sempre il capitano alla battuta è un mancino si tratta del numero quattro Capitan Vaccaro che si preoccupa di calciare questo calcio di punizione leggermente più indietro rispetto a quella di prima barriera tre per di Pasquale tiro in borta deviato dalla barriera dal numero sette dell'Accademy Caltagirone si tratta di Simone Giaratana e palla che si spegne in calcio d'angolo calcio d'angolo a favore della Magica Mister Bianco 1-2 su calcio d'angolo dei ragazzi in maglia verde nera mette traversone che si spegne fuori a fondo campo era pericoloso questo traversone però la palla si è spenta in rimessa dal fondo e ha colpito la rete della porta esterna di Pasquale lascia la competenza della battuta a Federico Cucè Federico Cucè in avanti San Filippo gira la palla ancora il giovane calciatore del Mister Bianco ancora recupero palla dei rossoneri di Caltagirone ancora palla in avanti attenzione taglio perfetto bellissima palla data in perfetto taglio da parte del centrocampista della Magica Mister Bianco ottimo movimento dell'attaccante dei nero verdi che tagliando tutta la difesa si è trovata tu per tu col portiere portiere di Pasquale che è stato bravo nella lettura uscendo diciamo con i tempi giusti è riuscito a recuperare il pallone ottima questa giocata da parte della Magica Mister Bianco punizione a favore dell'Accademia Caltagirone proprio sulla linea di centrocampo palla in avanti di Politino Politino verso Persico che a sua volta cerca uno contro uno contro gli uomini i ragazzi del Mister Bianco Mattaguile ha il problema di girarsi è un po' lento e viene recuperato Persico ancora Luciano Persico gira la palla con Politino cercava un 1-2 ma si era fermato il numero 10 dell'Accademia Persico ancora palla in fallo laterale ancora a favore dell'Accademia Caltagirone Cucè per Politino Politino palla in avanti Maccino sbaglia il tempo recupera palla Giarratana attenzione potrebbe dire ma viene anticipato dal difensore del Magica Mister Bianco ancora magica in avanti palla sull'esterno chiuso ancora una volta da Walter Politino che mette la palla in fallo laterale palla in avanti dei neroverdi svilgo attenzione e ci potrebbe allora palla in avanti messa buco della difesa dell'Accademia si era inserito bene se non andiamo errati il numero 11 si trattava di Palazzolo e la palla che è stata recuperata dal portiere Umberto Di Pasquale quindi anche quest'azione in verticale e in velocità ha messo in difficoltà la squadra di Mister Nicolosi e forse probabilmente c'era una trattenuta da parte del difensore dell'Accademia ma l'arbitro il signor di Dio non è stato di questo parere ha fatto continuare quindi palla in avanti Marcinò scarica sbaglia lo scarico Marcinò ancora il numero 11 che cerca all'esterno destro d'attacco della Magica Mister Bianco si tratta del numero 7 Catalano fallo laterale a sinistra battuto da Cuce Persico Luciano viene incontro scambia con Politino Politino potrebbe mandare in avanti Vespo ma viene anticipato dal centrocampista della Magica Mister Bianco ancora prova a saltare dell'avversario palla per Catalano Catalano viene chiuso da Cuce in collaborazione con Altaquile e palla che finisce in fallo laterale a favore a favore della Magica Mister Bianco a battere i falli laterali si è ancora il giovane Ghiaria Matteo classe 2011 giro scambio veloce 1-2 attenzione palla che prende velocità e viene messa di nuovo in fallo laterale ancora Cuce Cuce per Parrinello Parrinello mette una palla in avanti ma viene recuperata da Simone Giaratana che si deve impegnare per tenere la palla in gioco la scarica Vespo Vespo potrebbe accorciare su Politino Politino aprire sull'out sinistro su Persico Luciano Persico che prova a rincorrere questa palla era leggermente larga e lunga quindi palla a favore della Magica Mister Bianco fallo laterale battuto Marcinò si gira salta il diretto avversario attenzione dentro l'aria prova potrebbe calciare fa il 2-0 salvo Marcinò bellissima azione di Sture Marcinò di Salvo Marcinò il bomber numero 9 che mette un sigillo importante a questa partita facendo il secondo gol quindi Accademic Altagirone 2 Magica Mister Bianco 0 l'autore del gol è il classe 2010 numero 9 dell'Accademic Altagirone Salvatore Marcinò che si è destreggiato bene saltando il suo diretto avversario fintando con una finta di corpo di andare a sinistra poi è rientrato col destro ed ha messo sul palo dove il portiere non poteva non poteva arrivare quindi Accademic 2 Magica Mister Bianco 0 palla in avanti della Magica Parrinello fa buona guardia recupera palla Simone Giarratana che lancia sempre il mobilissimo Luciano Persico che prova a saltare il suo diretto avversario recupera forse un fallo laterale a favore della Magica Mister Bianco fallo laterale battuto centrale palla in avanti il numero 9 San Filippo bravo in ottima chiusura da parte del numero 5 dell'Accademic Altagirone si tratta di Davide Jurato che mette la palla in fallo laterale Parrinello libera l'aria la apre prova a tirare dalla distanza il giocatore nero verde della Magica Mister Bianco e fa buona guardia Umberto Di Pasquale Lancio Lunco fa buona guardia la difesa della Magica però sul rimbalzo lo stesso perde palla Attaquile gira palla per Politino Politino a sua volta cerca e trova Federico Cucè ancora Cucè Attaquile palla per Pessico palla recuperata per un momento dalla difesa della Magica Mister Bianco ancora Luciano Persico si gira prova a scaricare Attaquile Attaquile con Politino 1-2 bellissima azione dell'Accademic Altagirone Vespo prova lo scarico ma palla corta recuperano i difensori della Magica Mister Bianco sbaglia l'impatto col pallone il giovane calciatore della Magica Mister Bianco ancora palla a centro campo gira palla Capitan Vaccaro prova a mettere ordine Attaquile salta il suo diretto avversario cerca l'1-2 con Luciano Persico Persico potrebbe calciare lo fa palla che diciamo così diventa difficoltosa per il portiere della Magica Mister Bianca che si deve impegnare per fare un buon intervento sul tiro ancora di Luciano Persico Luciano Persico sull'out sinistro mette la palla dietro per Attaquile Attaquile per Politino 1-2 ancora Politino forse forse c'è una deviazione da parte dei difensori della Magica Mister Bianco sembrava che avesse toccato con un braccio ma l'arbitro non è di questo parere va bene così ancora a centro campo si lotta fallo di Attaquile e punizione a favore della Magica Mister Bianco quindi una delle ultime situazioni pericolose ancora una volta l'ha creato Luciano Persico con un tiro dai 25 metri è stato bravo e portiere ospite a intervenire e difendere la propria porta in questo momento una buona azione della Magica però chiusa ottimamente da Federico Coci che fa trascinare la palla in rimessa dal fondo quindi rimessa dal fondo che si appresta a battere quindi c'è una piccola indecisione da parte dei ragazzi dell'Academy Umberto Di Pasquara toccando la palla giustamente mette la palla in movimento quindi la giocata è valida e non hanno approfittato i ragazzi della Magica Mister Bianco pur leggendo la situazione sono stati diciamo così in questo caso fortunati i ragazzi dell'Academy a non fare tra virgolette la classica frittata di giornata quindi un errore abbastanza diciamo così di poca concentrazione per gli uomini di Mister Nicolosi ancora palla in avanti Catalano Catalano cerca l'avanti del Mister Bianco ma fa buona guardia Politino ancora Persico viene lanciato da Politino viene trattenuto ma l'albito dà la regola di vantaggio ancora Luciano Persico che fa un arcobaleno e mette la palla in gol 3 a 0 per la squadra dell'Academy Caltagirone ancora Persico che disegna un arcobaleno con un interno destro importante e mette la palla dove il portiere non può far nulla quindi l'Academy Caltagirone 3 ancora lui ancora il nostro numero 10 classe 2010 Persico Luciano che oltre a portare a 3 di vantaggio i gol per quanto riguarda l'Academy Caltagirone stamattina è la sua personale doppietta e quindi dà morale dà fiducia alla squadra quasi sul finale di primo tempo l'Academy che cala il tris quando mancano una mangiata di minuti al fine del primo tempo diciamo così mettiamo un pochettino la partita più in in sicurezza ma ancora c'è tutto il secondo tempo e quindi si deve la partita si deve essere sempre concentrati e soprattutto si deve cercare di fare meno errori possibili per evitare di rimettere in partita la magica mister bianco ancora vespo prova e traversone bravo il difensore del mister bianco palla in uscita salta benissimo ancora Davide Jurato Jurato che è libera per Maccinò Maccinò di petto fa la sponda per Polidino Polidino ancora per Luciano Persico stamattina indemoniato il giovane classe 2010 ancora vespo che viene anticipato dai difensori della magica mister bianco e guadagna un calcio d'angolo calcio d'angolo sul lato destro d'attacco dell'accademy Caltagirone alla battuta ancora una volta se non andiamo errati Luciano Persico Polidino si muove palla al primo palo dove arriva attenzione palo di Ture Maccinò colpo di testa ribattuta confusione in aria ancora Academy pericolosa con Maccinò che se non andiamo in rata ha preso il mondante ha preso il palo e poi sulla ribattuta di testa è stato bravo il portiere della magica mister bianco a liberare la sua area ancora mister bianco che prova a portarsi in avanti e forse guadagna un fallo laterale invece no l'arbitro assegna il fallo laterale all'accademy palla in centro campo chiuso bene lancia in avanti fa buona guardia Federico Cucè che impatta bene la palla e fa viaggiare i suoi ancora Persico che deve lottare con il numero tre riesce il giocatore della magica mister bianco a recuperare palla però la perdono attenzione palla in mezzo ancora Giarratana recupero palla e scarico su Gravina che prova ad aprire il gioco su Vespo viene anticipato ancora la magica mister bianco palla corta palla lunga e prova il tiro dalla distanza il giovane attenzione la palla che rimbalza proprio vicino al corpo di Umberto di Pasquale che si deve impegnare più del dovuto per recuperare questa palla quindi ancora palla in avanti Marcinò Salvo Marcinò autore ricordiamo del gol vantaggio della scusate non del gol vantaggio ma del secondo gol dell'Accademia Altagirone ancora palla in avanti chiuso ottima la prestazione dei quattro difensori schierati stamattina da mister Alfredo Nicolosi si tratta di classe 2011 Lorenzo Gravina dei due centrali classe 2010 Davide Iurato e Parrinello Francesco e l'altro esterno sinistro Federico Cucecco numero 3 anche esso classe 2010 palla centrocampo recupera palla l'Academy ancora Politino che lancia Persico stavolta fa buona guardia il portiere della Magica Mister Bianco e recupera palla palla Marcinò Marcinò viene anticipato dai difensori del Magica Mister Bianco Magica Mister Bianco che prova una giocata in avanti ancora Politino metronomo della squadra dove il gioco viene costruito tutto se non in parte attorno a sé quindi gira la palla ancora la magica bravissimo si gira attenzione potrebbe tirare non tira prova saltare un diretto avversario fa buona guardia Parrinello autore di una ottima partita fino in questo momento di Francesco Parrinello che libera la sua aria e mette la palla in fallo laterale fallo laterale battuto palla in mezzo fa buona guardia Lorenzo Gravina palla per Luciano Persico Luciano Persico trova un uno contro uno con il suo diretto avversario si tratta del numero tre che lo salta in velocità nonostante che ci fosse stata una trattenuta e poi sbaglia l'appoggio per la corrente Vespo che puntava giustamente verso la porta un po' più aperto il lancio di Luciano Persico che si spegne in fallo laterale battuto velocemente dai ragazzi nero-verdi di Mister Bianco Giarratana recupera palla lancio lungo per Vespo anticipato dal difensore palla a centro campo 1-2 e l'albito decreta la fine del primo tempo primo tempo che si chiude sul risultato di 3-0 a favore dell'Accademy Galtagirone i gialloneri di Galtagirone oggi maglia rossonera in vantaggio l'Accademy con il gol di Luciano Persico ha raddoppiato Salvo Marcinò il terzo gol è stato autore sempre il nostro numero 10 Luciano Persico con un bellissimo gol che chiude il primo tempo sul 3-0 a favore dell'Accademy Galtagirone ci risentiamo per il secondo tempo di questa partita il primo turno di campionato antequartodici sperimentale quando valevole per i play-off e allora quasi tutto pronto per l'inizio del secondo tempo di questa gara di primo turno play-off tra Accademy Galtagirone e Magica Mister Bianco il Signor di Dio fa partire la partita il secondo tempo palla per in possesso in questo momento dei ragazzi nero-verdi di Mister Bianco ricordiamo il risultato la prima frazione si è chiusa sul 3-0 per l'Accademy Galtagirone di Galtagirone scusate le reti sono state messe a segno da Salvatore Marcinò il numero 9 dell'Accademy Galtagirone e una doppietta di Luciano Persico che ha chiuso il primo tempo sul risultato di 3-0 ancora il Mister Bianco che prova a imbastire un'azione sull'out destro il numero 9 viene anticipato per un momento recupera la palla ancora si destreggia bene riesce a superare l'avversario ma viene chiuso dall'altro difensore dell'Accademy Galtagirone mi pare che si tratti di Parrinello che mette in fallo laterale fallo laterale battuto da destra dal lato destra del campo palla in avanti libera la difesa palla in aria attenzione rimbalzo bravo Umberto Di Pasquale ad aspettare che la palla rimbalzasse e poi intervenire falla ancora Academy palla lunga che si spegne in fallo laterale i 22 in campo se non andiamo errati sono gli stessi dell'inizio gara sia per quando riguarda la magica mister bianco che per quando riguarda l'Accademy Galtagirone fallo fischiato a centro campo palla girata dai ragazzi nero verdi di mister bianco e capitano Baccaro che gira la palla sull'esterno il numero 10 e il numero 2 si distreggiano in un 1-2 viene anticipato da Gravira palla a centro campo ancora capitano della magica che prova a mandare in avanti i suoi e attenzione palla l'arbitro non fischia palla in avanti Marcinò serve Luciano Persico che si deve impegnare a tenere la palla in campo ci riesce uno contro uno con l'avversario lo salta palla in mezzo libera la difesa della magica mister bianco ma la palla rimane lì Marcinò di spalle cerca lo scarico ma viene anticipato dal difensore della magica mister bianco quindi palla in fallo laterale a favore della squadra di mister bianco in nero verdi palla in mezzo viene anticipato da Politino che fa partire un tiro che si spegne sul palo tiro dalla lunga medio distanza da parte del numero 8 dell'Accademy Caltagirone si tratta di Walter Politino il centrocampista che imbatta bene la palla e la palla finisce sul legno quindi secondo palo dell'Accademy Caltagirone nell'arco di questa partita ad opera di Politino attenzione ancora Vespo che non è diciamo così attento e gli viene servito un passaggio un cross da parte dei difensori della magica mister bianco ma non ne approfitta attenzione forse c'è fuori gioco di Marcinò Netto l'arbitro di Dio della sezione ricordiamo di Enna fischia e mette la palla in cioè affida il calcio di punizione alla magica mister bianco ancora il numero 10 Gaudacisi e tiro ancora di Walter Politino che fa poker ci prova ancora una volta all'Accademy Caltagirone ancora con Walter Politino sfortunato nel tiro di qualche secondo fa che si è stampato sul palo questa volta ha avuto più fortuna il gesto tecnico del giovane classe 2010 numero 8 dell'Accademy Caltagirone Walter Politino che trova il gol del 4 a 0 quindi che chiude probabilmente definitivamente la contesa mentre c'è una sostituzione esce con il numero 11 se non andiamo errati Vespo Nunzio e al suo posto il numero 18 quindi attaccante per attaccante si tratta di Dylan Meli che prende come detto il posto di Nunzio Vespo Nunzio Vespo oggi diciamo così poco lucido sotto porta ha avuto un'occasione per far gol non è stato attento quindi sostituzione per il giovane classe 2011 Vespo Nunzio palla in avanti nel frattempo della magica mister bianco fa buona guardia di Pasquale Gravina apre per Dylan il neve entrata che si accentra gioca la palla ancora verso Gravina ma è lunga difesa dell'Accademy fa buona guardia con Parrinello Parrinello serve i ragazzi nero perdi recuperano palla ancora a centrocampo palla corta girano la palla l'indietro recupera palla Capitan Giarratana che la gira su Cucè che guadagna a sua volta un fallo laterale quindi aggiornamento di partita secondo tempo questa gara di playoff questo primo turno quando riguarda il campionato antequartodici sperimentale regionale l'Accademy Caltagirone diciamo così sta portando in porto questo primo turno trovando un risultato netto e anche meritato sul 4 a 0 quindi partita che si è messa che si sta mettendo bene per i gialloneri di Caltagirone che oggi sono in maglia rosso nera o meglio maglia rossa e pantaloncino nero punizione a favore del mister bianco palla a centrocampo giocata 1-2 capitan baccaro prova a servire i suoi ma fa buona guardia ancora una volta la difesa dell'Accademy Caltagirone macci no sponda per meli viene anticipato dal difensore della magica mister bianco attaquile che si mette a lottare per recuperare palla e guadagnano i ragazzi con la casacca nero verde un fallo laterale mentre vediamo ancora dei movimenti da parte della panchina dell'Accademy Caltagirone probabilmente a fare il suo ingresso in campo fra poco sarà il numero 14 dell'Accademy Caltagirone si tratta di Giuseppe Apola classe 2011 che probabilmente entrerà in campo fra qualche istante ecco mister Nicolosi che chiama l'attenzione del signor di Dio per far effettuare la sostituzione il giocatore che viene tra virgolette sostituito dovrebbe essere Capitan Giarratana è proprio lui Simone Giarratana lascia il campo a favore di Peppe Avola di Giuseppe Avola il numero 14 dell'Accademy Caltagirone il classe 2011 prende il posto di Simone Giarratana quindi il capitano dell'Accademy Caltagirone viene sostituito da Giuseppe Avola di Pasquale apre il gioco per Gravina Gravina cerca e trova Meli Meli si disimpegna bene potta la palla all'interno del campo cerca e trova Luciano Persico lancio per lo stesso Meli che prova un pallonetto e la palla che si infila sotto il set praticamente 5 a 0 da parte di Dylan Meli che ha fatto quasi tutto da solo proponendo l'azione del quinto gol portando palla dal centrocampo incuniandosi centralmente ha cercato un 1-2 con Luciano Persico che a sua volta è stato bravo nel mandarlo in profondità si è inserito di nuovo Meli che con un pregevole pallonetto ha saltato il portiere ospite siglando il quinto gol per l'Academy Caltagirone quindi risultato che cambia ancora una volta l'Academy Caltagirone 5 Magica Mister Bianco 0 autore del gol di un bellissimo gol tra virgolette il giovane classe 2011 Dylan Meli quindi partita che si mette sui binari giusti per la squadra dell'Academy Caltagirone con questo quinto gol che praticamente fa un pochettino risollevare la situazione per quanto riguarda l'Academy ancora Dylan lanciato benissimo da Persico il tuppertucco portiere e sigla il sesto gol 6 a 0 Dylan Meli è entrato subentrato da qualche minuto in campo è autore di una bellissima doppietta stavolta un tiro di sinistro che ha fatto diciamo così fatto male al portiere locale quindi Meli sigla la sesta rete del di questo confronto di questo primo turno di playoff e aumenta il vantaggio per quanto riguarda l'Academy Caltagirone l'Academy Caltagirone che con questa probabile vittoria anche se ancora manca una ventina di minuti passa teoricamente al secondo turno della fase di playoff del campionato antequartodici sperimentale regionale e attenderà possibilmente la la vincente o meglio la perdente dello spareggio che c'è in corso tra Real Biancavilla e FC Gini Cascordia che si stanno giocando il primato in classifica ancora in avanti attenzione Meli la palla su sinistro si inserisce ancora palla in avanti ancora Meli stavolta Meli alza la mira e palla che finisce in rimessa dal fondo occasioni che ora si si susseguono per quanto riguarda l'accademia Altagirone forse i giovani ragazzi nero verdi di mister bianco hanno perso un po' di fiducia hanno perso forse un po' di lucidità anche il caldo della giornata di stamattina sta facendo probabilmente il suo percorso e quindi gara che ormai si diciamo così si può decretare finita anche perché gli uomini di Affeto Nicolosi stanno trovando con molta diciamo così frequenza le azioni sia pericolose che quelle che vengono tramutati in gol mentre c'è un'altra sostituzione ancora l'ingresso in campo di Chiliam Sortino col numero 17 al posto di un ottimo Parrinello Francesco oggi chiamato in causa come difensore centrale e debbo dire che ha fatto un'ottima partita il giovane classe 2010 Parrinello e ha diciamo così ripagato in pieno la fiducia che gli è stata data in un primo turno di playoff ancora chiuso Sortino tocca il suo primo pallone prova a giocarla con Dila ma lo scambio finisce in fallo laterale fallo laterale a favore dell'Academy Caltagirone quindi stavamo dicendo con questa vittoria all'Academy Caltagirone si proietta al secondo turno dei playoff e in attesa di conoscere l'avversario di turno tra Real Bianca Villa e l'FC Gini Cascordia in quanto le due squadre stanno diciamo così disputando la gara spareggio per la vittoria del campionato quindi la perdente di questo spareggio incontrerà l'Academy Caltagirone e questo succederà la prossima settimana quindi il prossimo weekend probabilmente si giocherà in casa o dell'Oscordia se dovesse perdere o del Real Biancavilla se a perdere è lo stesso Real Biancavilla quindi partite in trasferta la prossima settimana per il secondo turno dei playoff altre se non andiamo errati tre sostituzioni per quando riguarda mister Nicolosi ad uscire è Salvo Marcinò il classe 2010 il numero 9 il bomber dell'Academy Caltagirone a suo posto Leonardo Bizzini ancora in avanti l'Academy Persico prova un tiro mette le traversone e palla che si spegne in rimessa dal fondo quindi stavamo dicendo sostituzione da parte di mister Raffredo Nicolosi che ha sostituito il numero 9 dell'Academy Caltagirone si trattava di Salvo Marcinò autore del gol che praticamente ha sbloccato la partita e al suo posto è entrato Leonardo Bizzini il classe 2010 in forza all'Academy Caltagirone ancora palla in avanti e se la lunga e se la porta in rimessa da fondo altri due cambi da parte dell'Academy Caltagirone l'arbitro non dà l'autorizzazione quindi si continua Magica in avanti giurato fa buona guardia e spedisce in fallo laterale ecco qui altri due cambi per quanto riguarda l'Academy Caltagirone fanno il loro ingresso in campo Salvatore Rabbito e Furci Lorenzo ad uscire sono il numero tre dell'Academy Caltagirone Federico Cucè e se non andiamo errati esce Luciano Persico Luciano Persico autore di due bellissimi gol Furci tocca il suo primo pallone lo gira in avanti viene anticipato dalla difesa della Magica Mister Bianco ancora Furci sponta per l'ottima giocata di Rabito che manda in avanti Dylan Meli ma il portiere stavolta fa buona guardia e fa sua la palla palla in avanti ricordiamo a tutti i nostri amici a tutti i nostri sostenitori che la partita verrà trasmessa in onda sui canali di tvxenon e la potete trovare anche sul blog social della pagina video event calta girone quindi su tutti i social sia su facebook che su instagram che su youtube e la partita verrà trasmessa lunedì lunedì sera alle ore 20 sugli schermi di tvxenon emittente locale televisione locale di calta girone calcio d'angolo palla in avanti e trova il settimo gol settimo gol per l'accademy calta girone per la personale doppietta di valter politino quindi 7 a 0 calcio d'angolo battuto bene da dylan da dylan meli e tra persone che impatta benissimo valter politino che sigla così il suo la sua personale doppietta è il settimo gol per quando riguarda la partita per l'accademy calta girone quindi accademy calta girone 7 magica mister bianco 0 l'avevamo detto che i ragazzi di mister bianco nel secondo tempo sono entrati magari in campo un po' o leggermente demolarizzati per risultato della prima frazione la prima frazione ricordiamo si è chiudita sul 3 a 0 e probabilmente diciamo così è venuta a mancare quella grinda quella voglia quella quel verve che ti permette di continuare a lottare pallone su pallone giustamente a questa età è molto facile che questi ragazzini possono avere questi sbalzi di umore dovuti dal fatto ancora dalla poca esperienza che giustamente hanno a questa età di Pasquale di Pasquale Umberto il classe 2010 portiere titolarissimo dell'ante Quartodici ancora in avanti la palla fa buona guardia Lorenzo Gravira palla in avanti scaricata dietro al portiere che viene attaccato da Bizzini fa buona guardia Rabito Forci ancora Rabito prova mette la palla in mezzo attenzione Dylan Meli recupera stavolta il portiere della magica mister bianco ancora palla in avanti dei neroverti vediamo se c'è un'opportunità offensiva per i ragazzi di mister bianco dà la palla prova è bellissimo questo inserimento che l'arbitro avvete praticamente che una posizione di offside di offside decreta l'arbitro di Dio quindi fuori gioco a favore del a favore a sfavore della magica mister bianco 7 a 0 risultato palla in rimessa dal fondo a favore della magica mister bianco gara che si sta spegnendo visibilmente e anche emotivamente diciamo la partita ormai è segnata soprattutto per quanto riguarda i ragazzi neroverdi di mister bianco mentre i ragazzi di caltagirone ancora provano qualche sortita offensiva per magari così trovare un'ulteriore situazione importante a livello offensivo gira palla la magica apertura sul lato sinistro gravina recupera ancora i ragazzi neroverdi guadagnano una rimessa laterale palla a centro campo si destreggia palla in avanti ancora il numero 8 Castorina che prova a imbastire qualche azione per i suoi 1-2 stavolta la posizione stavolta la posizione sembrava invece regolare e l'albitro fischia il fuorigioco fallo laterale a favore della magica mister bianco esce Lorenzo Gravina e fa buona guardia alla difesa dell'Academy ancora palla in avanti prova ad attaccare il numero 10 della magica mister bianco gira la palla ottima la palla ma viene anticipato dal difensore dell'Academy Caltagino Rabito scarica per Alberto Attaquile Attaquile prova a cercare ancora Rabito ma viene anticipato dal centro dal centro campo della magica mister bianco ancora pacifico per il numero 8 Castorina ma vengono anticipati dai ragazzi gialloreri di Caltagirone Meli supera un avversario cerca un 1-2 con furci furci prova a saltare l'avversario prova a mettere un pallone in mezzo ma viene anticipato e chiuso dalla difesa della magica mister bianco ancora gravina 1-2 buona la palla verso il numero 11 della magica mister bianco si tratta di palazzolo ma palla che finisce in calcio d'angolo per la deviazione del giocatore dell'academy di Davide Jurato quindi se non andiamo errati dovrebbe essere calcio d'angolo o un fallo laterale diciamo alto no è calcio d'angolo 2 sulla battuta del calcio d'angolo il difensore in questo caso si tratta di politino è troppo vicino alla battuta del calcio d'angolo infatti l'arbitro fa indietreggiare 1 2 palla in mezzo libera Bizzini che può partire ancora Meli palla in avanti il portiere ospite fa buona guardia e apre sull'esterno destro che arriva sul pallone la prova a giocare in avanti ma viene chiuso da rabbito palla in avanti Meli ormai diciamo così le squadre sono molto molto lunghe l'Academy prova l'ennesima azione pericolosa della sua partita con Bizzini che stavolta viene anticipato bravo a uscire palla a piede il giocatore della magica mister bianco mentre porta in avanti ancora il numero 11 che prova a servire palla in avanti fa buona guardia Umberto di Pasquale che sboglia la matassa e riesce a recuperare palla e fa ripartire con un lungo lancio i ragazzi dell'Academy ancora palla a centro campo apertura bravissimo Lorenzo Cravina che recupera un pallone importante palla in avanti palla che si spegne in fallo laterale ha provato Meli a recuperare questo pallone però non ci è riuscito quindi fallo laterale palla per Politino Politino cerca un 1-2 con Rabito Rabito protegge palla potrebbe servire Sortino Sortino viene anticipato dai difensori della magica mister bianco Meli sinistro di Meli palla che ribalza proprio di fronte l'impatto del portiere e palla in calcio d'angolo quindi ancora Meli tiro dai 20 metri palla che ribalzata davanti il portiere che ha fatto un buon intervento mettendo la palla in calcio d'angolo a favore dell'Accademy Caltagirona calcio d'angolo Meli sul primo palo spazza la difesa del magica mister bianco palla ancora recuperata da Politino Politino salta un avversario e tira in porta palla terminata alta sulla traversa si aspetta probabilmente solo il fischio finale del signor Didio della sezione di Enna Furcinaria ancora Pacifico che apre la palla fa un 1-2 ancora numero 2 probabilmente uno dei migliori in campo per quanto riguarda la magica mister bianco alla pari del capitano della magica mister bianco Vaccaro e del numero 8 Castorina di Pasquale apre sull'esterno su Avola ma la palla finisce in fallo laterale Cannizzaro si destreggia ma viene anticipato dalla difesa dell'Accademia Altagirone ancora la magica mister bianco palla in mezzo attenzione numero 7 Pacifico viene anticipato all'ultimo momento dal difensore Davide Jurato ancora palla in avanti ancora Jurato autore anche lui di una buonissima prestazione Meli apre per Leonardo Benzini Bizzini questo sinceramente è un fuorigioco un po' dubbio fuorigioco leggermente dubbio però va bene così così sono c'è un po' in Palla in avanti ancora Meli cerca Furci che viene anticipato dalla difesa della magica mister Bianco esce palla a piede il difensore della magica mister Bianco serve 1-2 capitano capitano numero 4 dell'attenzione e stavolta c'è il fuorigioco offside 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 da parte del numero 8 Castorina se non andiamo errati quindi punizione a favore dell'Accademia Altagirone alla battuta Walter Politino Politino lancio lungo per Meli stoppa supera un avversario prova a calciare in porta di sinistro e palla che si spegne tra le braccia del portiere verde-nero Leone che apre il gioco sull'esterno destro ancora la magica mister Bianco prova a imbastire da uscire palla a piede da dietro palla in avanti numero 2 della formazione di mister Bianco palla in fallo laterale ottima la chiusura di Lorenzo Cravina classe 2011 Attaquile apre per Meli Meli si inserisce Attaquile sbaglia stavolta Meli e punizione giusta giusta a favore della magica mister Bianco palla in avanti ancora Rabito per Politino Politino apre per Bizzini Bizzini viene anticipato difende la palla ancora in possesso della squadra giallonera di Galtagirone lancio per la corrente che prova a saltare l'avversario non ci riesce stavolta Politino sbaglia palla in avanti taglio di Dylan Meli che prova a scavalcare il difensore fa a buona guardia il difensore della magica mister Bianco Sortino rincorre l'avversario recupera la palla per un momento ma a sua volta torna in possesso dei ragazzi neroverdi di mister Bianco punizione punizione a favore della magica battuta molto velocemente hanno fatto buona guardia i difensori dell'Academy Caltagirone partita che dovrebbe già essere conclusa ricordiamo il risultato Academy Caltagirone 7 magica mister Bianco 0 prova un tiro dalla distanza il giovanissimo giocatore neroverde della magica mister Bianco ma la palla si spegne in rimessa dal fondo quindi si aspetta si attende che l'arbitro il signor Dio decreti il finale di questa contesa per diciamo così mandare i ragazzi sotto la doccia anche perché la temperatura di stamani qui al comunale di San Michele è abbastanza alta il sole la bellissima giornata e attenzione mentre c'è Furci su Leone bravo in uscita a far la palla ed ecco qua arriva il fischio finale quindi partita di under 14 del campionato sperimentale regionale il primo turno playoff quella che abbiamo riposto quest'oggi con la vittoria netta dell'accademic altagirone ai danni della magica mister Bianco con il risultato di 7 a 0 3 i gol messe a segno nel primo tempo 4 invece nella seconda frazione quindi per i ragazzi di Galtagirone di mister Fredo Nicolosi giustamente festeggiano questo primo passaggio di turno e li aspetta la seconda partita che sarà la prossima settimana anch'essa di playoff si tratterà del secondo turno dei playoff quindi i ragazzi di Galtagirone sono chiamati a ribatire il netto risultato ottenuto stamattina qui al comunale di San Michele con la speranza che possono continuare nel percorso dei playoff per quanto ci riguarda vi auguriamo una buona domenica da parte di video event e da parte di TVX Enon e dal sottoscritto una felice domenica e alla prossima e alla prossima e alla prossima e alla prossima Grazie a tutti.